Pochi giorni, in realtà ancora poche ore, e lo storico hotel universo che diventa Grandi Universe Lucchia riaprirà i battenti alla città e tanti turisti che si spera possano visitarli in una fase post-pandemia che ci auguriamo sia davvero dietro l'angolo. L'albergo gode di una posizione di assoluto privilegio, situato com'è di fronte al Teatro del Giglio e con vista su Piazza Napoleone. Ristrutturato dal gruppo Marcucci e da Scener Italia, entrerà a far parte del Portfolio Autograph Collection di Marriott International, un brand nel quale ogni albergo viene accuratamente selezionato per le sue caratteristiche peculiari, il suo design curato e la sua autenticità. La storica struttura, proprietà della prestigiosa famiglia Pauli durante il rinascimento, fu trasformata in un hotel nel 1857 e da allora ospitato poeti, pittori e musicisti provenienti da ogni angolo del mondo, sviluppando un rapporto privilegiato con il mondo dell'arte, che ancora oggi è ben visibile al suo interno. Giacomo Puccini fu uno degli ospiti più illustri e ricorrenti, non a caso una delle suite prende il nome proprio del grande maestro lucchese, mentre le altre richiamano i principali movimenti della musica classica, piccolo, ad agio, vivace, allegro, eccetera. Il design invece, che gioca con gli arredamenti e le finiture, è un tributo alla Toscana, ai suoi colori e alla vivacità con seta, legno e oro, che celebrano l'artigianato e la natura locale. Annotazione finale sullo rooftop Barso a mità, che offrirà un'incantevole vista sull'intera città di Lucchia.